Non è la prima volta che bocconi di cibo avvelenato destinati agli animali sono messi di proposito in zone strategiche o di passaggio. Il cane è sempre il miglior amico dell'uomo, ma spesso l'uomo non è il miglior amico del cane, che chiede poco ma sa donare tanto in cambio. La zona dove recentemente sono state individuate alcune polpette di carne sospette è il quartiere di Fano II, e precisamente nello sgambatoio appositamente predisposto di recente dal comune. Non è la prima volta che si trovano e hanno trovato delle esche, come il comunicato del comune ha scritto, con dei chiodi, con avvelenate. Questo ovviamente per far del male ai numerosi animali che vivono insieme a noi in questo quartiere. Dispiace perché negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha fatto anche tanto per questo quartiere e per venire incontro a questo tipo di problematiche. Poi si trovano le polpette avvelenate, addirittura l'ultima è stata trovata proprio dentro lo sgambatoio e mi sembra una cosa gravissima. Il genio del male di coloro che le confezionano non conosce limiti. Al loro interno sostanze chimiche della più disparata natura e mischiate ogni volta ad oggetti, pezzi di vetro, chiodi arrugginiti, insomma un campionario di bruttura infinito con il solo intento di far del male, causando dolori atroci ai poveri quadrupeti. Ora il servizio veterinario dell'Asur ha sequestrato i bocconi sospetti e si sta procedendo con le analisi per chiarire la composizione delle sostanze, ma lo sdegno e la rabbia per questi atti di puro sadismo e crudeltà tra i presenti e i residenti del quartiere si è diffuso rapidamente. Purtroppo si deve chiedere la sensibilità alle persone, è una cattiveria gratuita, una cosa che veramente è uno strazio. Sono persone che evidentemente non sono in grado di convivere con gli animali, ma a questo punto credo anche tra le persone proprio. Oltretutto qualche anno fa ci sono stati anche dei casi di decesso, sono per l'appunto morti due cani, perché hanno ingerito delle esche, ripetiamo questa parola, ma io direi proprio delle trappole, e ne hanno rimesso insomma la vita, quindi è una cosa tremenda, ancora continua. Quindi quello che chiediamo è che magari ci siano dei controlli per stanare questi vigliacchi, questi assassini. Ora che andiamo incontro all'estate si ripresenterà un'altra ignobile crudeltà verso gli amici a quattro zampe, il fenomeno dell'abbandono, magari anche in autostrada, per sbarazzarsi di quello che in principio è stato un trastullo. Gli animali domestici non sono giocattoli da usare e poi buttare, ma esseri viventi da rispettare e possibilmente da amare.